Il linguaggio dei diritti ha la capacità di rendere visibile ciò che, per troppo tempo, è stato tenuto nascosto. Michael Freeman Buongiorno caro Stefano, come va? Buongiorno Andrea, non mi posso certo lamentare, tu invece come te la passi? Io tutto bene, oggi l'argomento di discussione è la Convention of the Rise of the Child, la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da adesso in poi la chiameremo CRC perché lo scorso venerdì, come abbiamo ricordato nella nostra puntata di MVP, era il 31esimale, se non mi sbaglio, se si dice così, della firma e ratifica di questo importantissimo documento internazionale. Allora, sottolineo subito che mi fa piacere che sei sul pezzo perché mi ero preparato una nota a margine ma tu sei già andato oltre e appunto perché possiedi l'argomento. Perché l'UNICEF Italia sottolinea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese child anziché con fanciullo, con un trittico di parole bambino, ragazzo, adolescente, ma lo abbiamo già fatto quindi possiamo andare oltre. Si, ricordiamo solo che l'UNICEF è appunto il fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia appunto. Ok, allora questa convenzione che è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, resta al momento il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia. 194 paesi l'hanno ratificato, l'Italia l'ha ratificato il 27 maggio del 1991, l'ultimo paese a ratificare la convenzione è stata la Somalia nel 2015, persiste la clamorosa eccezione degli Stati Uniti. Ma andando oltre a questo facciamo una precisazione, ovvero cosa significa firmare una convenzione rispetto a ratificarla, cioè firmarla non equivale quindi a ratificarla, poiché la semplice firma da parte di un paese non fa entrare la convenzione nel diritto interno, ma si configura come un impegno a riguardo di ciò che tratta la convenzione. Mentre la ratifica implica il fatto che lo Stato adotti le misure necessarie a far applicare le disposizioni delle convenzioni nei tribunali, quindi è un impegno ben più gravoso. Sì, impone l'obbligo di legiferare in merito. Stefano, vado un attimo più a fondo sulla convenzione, è formata da 54 articoli, di cui però solo 41, dal primo al 41, sono l'enunciazione dei diritti veri e propri dei bambini. In realtà poi dal 42 al 45 si parla un po' di organi di monitoraggio e dal 46 al 54 della procedura di ratifica. Un'altra nota a margine sono dei protocolli opzionali, che sono tre, di cui però non parleremo, e poi l'UNICEF si è dotata anche di un meccanismo di monitoraggio. Gli stati devono dare dei report di monitoraggio due anni dopo la firma della ratifica e di cinque anni in cinque anni. In realtà in Italia abbiamo un gruppo che si chiama Gruppo di Lavoro CRC, composto da 100 enti del terzo settore, che ogni anno prende l'impegno di stilare un report, quello del 2020 è appena uscito, lo trovate su internet, vi metteremo anche il link sotto. È un report di 188 pagine, quindi solo due o tre pagine, dove però troviamo tutti i passi avanti che l'Italia ha fatto sull'implementazione di questa convenzione. Beh, caro Andrea, sappiamo entrambe quanto è prezioso questo documento, tu ce ne hai già dato un assaggio in apertura, e nella preparazione della puntata stavo pensando a qualcosa di prezioso, da custodire, e mi sono venute in mente le opere d'arte. Ti proporrei quindi di trattare la CRC alla stregua di un'opera d'arte. Prego Stefano. Non nel senso ovviamente di limitarci a contemplarla, bensì di farci ispirare, ma inoltre, per cercare di trasmettere l'importanza di questa convenzione ai nostri ascoltatori, sul solco di questo parallelismo con le opere d'arte, mi approccierei alla CRC come ci si approccia ad un quadro, partendo quindi dalla cornice, per passare poi al contenuto e dunque a considerazioni e commenti. Quindi, se non hai nulla in contrario, partirei appunto dalla cornice. No, lascerei dunque parola all'Alessandro Barbero dei Pedagogisti e illustrarsi qualche dato storico, sulla CRC. Bravissimo. Quale cornice migliore, se non la prospettiva storica in cui si inserisce questo documento? E si inserisce la CRC come terzo ed ultimo passo fondamentale verso una cultura dei diritti dei minori nel mondo. Per capire quindi la portata di tutto ciò, dobbiamo fare un balzo storico all'indietro, al 1923, e ci catapultiamo sulla vetta del Monte Saleve, che domina Ginevra, dove ritroviamo la ormai nostra Eglantine Jeb. Intenta prima a riflettere e poi a scrivere la carta internazionale dei diritti dei bambini. Scritta in stile molto semplice, in cinque punti, afferma che i bambini hanno dei diritti, molto semplici nel senso fruibile un po' a tutti, no? Afferma che i bambini hanno dei diritti e la comunità ha il dovere di proteggerli. La invia, dopo averla redatta alla Società delle Nazioni che la adottano il 26 settembre del 1924, con il nome di Dichiarazione di Ginevra, quindi primo tassello Dichiarazione di Ginevra 1924. Il secondo atto internazionale degno di nota in questo percorso che ci avvicina alla CRC è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Qui ritorna il 20 novembre, no? Il 20 novembre, cioè. Esattamente, 30 anni prima. Viene approvata non a maggioranza, bensì all'unannità. Introduce un concetto chiave, ovvero quello che i minori sono soggetti di diritto, ok? E riconosce il principio di non discriminazione che poi tornerà e ne parleremo più tardi. Esatto. Ci sono anche delle, diciamo così, note critiche a riguardo, ovvero prevalgono ancora degli aspetti caritativi e paternalistici. Cioè l'infanzia viene ancora trattata un po' come un qualcosa di inferiore rispetto al mondo degli adulti. E' uno step avanti, diciamo, rispetto alla carta di 35 anni prima, ma permangono dei limiti, quindi. Proprio così, caro Andrea. E a proposito di passi avanti, ce ne sono stati diversi anche nei 30 anni che poi separano questa seconda dichiarazione con la CRC. Sì, soprattutto dal 1978 in poi, perché il governo polacco prende un'iniziativa, appunto, nel 1978 proponendo alle Nazioni Unite di adottare una specifica convenzione sui diritti dei bambini. Questa convenzione è frutto un po' del lavoro in Polonia del pedagogista polacco Janusz Korczak. Però non viene, diciamo così, presa dalle Nazioni Unite per alcuni problemi di contenuto e di forma. Ma quell'iniziativa è fondamentale perché da lì, dal 1980 al 1988, si instaura un Working Group che è proprio al compito di stendere la versione finale della futura CRC. Che poi verrà firmata a New York, come già detto, nel novembre del 1989. Esimio collega, direi che siamo pronti per passare al contenuto del nostro quadro. Sì, allora Stefano, dobbiamo cercare di capire perché è una rivoluzione copernicana la CRC del 1989. Per riuscire a capire il perché, appunto, rivoluzionaria, dobbiamo andare indietro al 1924. Voglio leggerti un paio di articoli di quella che abbiamo già citata, dichiarazione dei diritti del bambino. Ad esempio, il primo dice Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale. Ancora, il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il malato deve essere curato, eccetera, eccetera. Allora, qual è il limite grosso di questa dichiarazione? È che il focus non è sui bambini, ma è sugli adulti. Il bambino, da questa dichiarazione, esce come un soggetto passivo, vulnerabile, bisognoso di protezione. E l'adulto deve assolvere ai suoi compiti di proteggere il bambino. Perché invece è rivoluzionaria la CRC? Perché il bambino nella CRC è visto come soggetto attivo, persona titolare di diritti. Difatti, ciò implica anche una diversa responsabilità da parte degli adulti. Perché se da un lato, se prima, nel 1924, l'adulto aveva il dovere a suo piacimento di proteggere il bambino, dall'altro lato l'adulto, dal 1989 in poi, ha comunque il dovere di tutelare il bambino, di proteggerlo. Ma inizialmente, e prima di tutto, ha il dovere di educare il bambino a esercitare indipendentemente e liberamente i propri diritti. Vorrei soffermarmi ancora un attimo su questa puntualizzazione che è veramente cardine. Se nel 1924, in quella dichiarazione, la dichiarazione aveva un approccio caritativo, assistenziale. Tu bambino, sei un soggetto vulnerabile, poverino, ti do dei diritti, non preoccuparti che ci pensa qualcuno a te. Beh, la visione che nasce dal 1989 con la CRC in poi, è una visione dove il bambino è un soggetto attivo e lavoriamo per lo sviluppo, per l'autonomia, per responsabilizzarlo. Beh, per rendere l'idea di ciò che ci hai appena raccontato, Andrea, mi viene in mente un'immagine. Cioè, i bambini passano da essere passeggeri ad essere piloti della macchina dei loro diritti. Assolutamente. E gli articoli della Convenzione possono essere letti alla luce di quattro principi guida. Il principio di non discriminazione, che è sancito all'articolo 2, secondo il quale i diritti che emergono dalla CRC devono essere garantiti a tutti i minori senza distinzione di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione e a prescindere da ogni considerazione di opinione politica o altro. E lo troviamo anche in numerose costituzioni tra cui la nostra. Poi, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, sancito all'articolo 6, ovvero che i paesi devono impegnarsi al massimo, impegnare il massimo delle loro risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Sì Stefano. Anche tramite la cooperazione. Esatto, mi soffermo un attimo su questo punto, non è solo il diritto alla vita, ma lo sviluppo, il che significa che bisogna investire sull'educazione. Pienamente d'accordo su questo, e non potrebbe essere altrimenti. Poi abbiamo il principio dell'ascolto del minore, sancito all'articolo 12, ovvero che bambini e adolescenti hanno il diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali e gli adulti hanno il dovere di tenere in adeguata considerazione le opinioni da loro espresse. Dopodiché, chiusiamo con quello che in realtà è il secondo principio che emerge, ovvero il principio del migliore interesse del bambino, sancito all'articolo 3. Da questo punto di vista Stefano, abbiamo ritenuto opportuno tenerlo alla fine perché è quello più importante. Vado a leggere direttamente dal report annuale che citavamo precedentemente del gruppo di lavoro della CRC, sono a pagina 42. Allora, il best interest of the child, il migliore interesse del bambino, è la necessità che nelle decisioni che concernono una persona di minore età, tutti i decisori pubblici e privati assicurano primaria tutela al suo migliore sviluppo psicofisico. Per farti capire l'importanza di questo principio, basti sottolineare il fatto che gli altri diritti sono tutti funzionali a questo, ovvero al migliore sviluppo psicofisico del bambino. Inoltre, anche i diritti di terzi, persino lo Stato e gli enti pubblici, cedono di fronte a questo diritto. Nell'applicazione pratica potremmo dire che, ad esempio, ciò autorizza, ad esempio, la permanenza, se parliamo del territorio italiano, di un genitore del minore, qualora ad esempio il suo allontanamento pregiudichi l'equilibrio psicofisico del bambino. Oppure, in altri casi, viceversa, può decadere la responsabilità genitoriale se essa va a nuocere lo sviluppo psicofisico del bambino. Pensiamo, ad esempio, ai casi, inoltre, di affidamento dei figli. Oppure, è molto importante che va di pari passo col diritto, col principio che citavi te prima della partecipazione, l'ascolto del minore durante il processo. Bene, tutto ciò ci aiuta a capire l'importanza di questo principio. Volevo chiusare dicendo due cose, Stefano. Anzitutto, primo, sono stato molto duro con la convenzione del 1924. In realtà, quella che citavi tu e l'idea geniale che ha avuto il nostro MVP di venerdì è un passaggio chiaramente fondamentale per l'epoca. Il novecento... No, mi fa piacere che dici questo, Andrea, perché il mio era un silenzio di senso a riguardo, perché mi stavi screditando l'MVP, eh? No, no, di fatti, mi riprendo subito, di fatti, il novecento è il secolo della scoperta del fanciullo, si dice, per l'attenzione posta e anche, siamo arrivati poi alla dichiarazione dei diritti dell'89. Quella del 1924 è probabilmente una dichiarazione dei diritti figlia del proprio tempo, che voleva, anzitutto dopo la prima guerra mondiale, che voleva porre l'accento sul dovere delle persone adulte di occuparsi anche dei bambini. L'ultima chiosa, per far capire inoltre ancora l'importanza della CRC nel nostro panorama, è che questi, per il fatto che gli stati ratificano questa convenzione, li obbliga poi a legiferare, dicevamo, e ciò diventa pazzesco e molto importante, perché questi diritti diventano, diciamo, degli obiettivi educativi e possono influenzare la politica sociale di un paese. Sì, e direi che questo interroga tutti noi, in quanto educatori, e interroga le politiche sociali dei vari stati, tra cui ovviamente anche il nostro. Giunti a questo punto, credo sia già emerso parecchio e che spunti di riflessione non manchino. Prima però di chiudere, credo sia senz'altro prezioso sottolineare almeno alcuni dei benefici oggettivi che 30 anni di convenzione hanno portato nel mondo. E per fare ciò non posso che lasciare la parola al mio compagno.